Vorrei spendere due parole sul modo di approcciare la vaccinazione e su questo i social media hanno una responsabilità incredibile, nel senso che campagne di disinformazione sono state da anni, soprattutto negli ultimi mesi, continuamente somministrate anche con messaggi subliminali che hanno a che fare con, come dire, che danno l'idea che si tratta di prodotti sintetici elaborati per interessi di terzi, in realtà io ricordo che i vaccini sono nati alcuni secoli fa, anche col sacrificio di persone che hanno testato su loro stessi, determinati preparati. Ricordo che il vaiolo è stato eradicato dalla faccia della terra perché è stata fatta una campagna di vaccinazione obbligatoria. Il vaccino è uno strumento di prevenzione di malattie che risentono anche di un fenomeno che è quello del contagio e che fanno i conti anche con i portatori sani, che sono quelli che sono portatori del batterio del virus, ma che non hanno clinicamente la malattia e che però possono contagiare. Ecco perché noi spingiamo molto per i vaccini, per le vaccinazioni, ecco perché nei nuovi idea sono presenti i vaccini con gratuità, pressoché completa. Questo è uno sforzo importante che fa il nostro paese, ecco perché la regione Lombardia fornisce in copagamento anche la vaccinazione tetravalente. Siccome la regione Lombardia considera anche rispetto per la scelta delle persone, ha fatto una scelta in cui non ha introdotto l'obbligo di vaccinazione, come altre regioni hanno fatto. In questi ultimi mesi il fatto che casi di meningite, parlo di meningite perché si sono verificate a vario titolo, in diversi contesti, ma determinate da diversi batteri o virus, l'evidenziarsi di questi fenomeni ha determinato una specie di allarme sociale, pur non essendo in presenza di un'epidemia, perché non ci sono le condizioni per poterla definire epidemia, neanche in Toscana, perché non ci sono prove di contagio. Quando non c'è evidenza di contagio non si può parlare per l'appunto di epidemia. Sono eventi scollegati nel tempo, in luoghi diversi, con indagini epidemiologiche che hanno dato degli esiti negativi, con probabilmente un problema di portatori sani, in alcune circostanze, probabilmente la Toscana, e con un substrato culturale della nostra popolazione che tendenzialmente è negativa nei confronti della vaccinazione. Perché dico questo? Perché la vaccinazione antinfluenzale, ad esempio, che è stata offerta gratuitamente agli oltre 65 anni e portatori di determinate patologie agli operatori sanitari, non ha avuto degli esiti di grande successo, diciamo così, ma la mortalità determinata a dare influenza è molto più alta rispetto a quella determinata dalla meningite, cioè sono molti più casi con una mortalità più elevata. Quindi usare il vaccino come strumento di protezione è corretto e bisogna fidarsi delle indicazioni che vengono date dalle agenzie preposte. Noi siamo una di quelle, la Regione Lombardia è una di quelle e noi siamo una di quelle. Quindi noi consigliamo la vaccinazione, consigliamo le vaccinazioni, per cui l'indicazione, il consiglio è fidarsi delle indicazioni che noi diamo, queste indicazioni vengono da evidenze determinate dai numeri, dai nostri numeri, che non ci sono suggerite da nessuna azienda che produce questi strumenti. e l'altra cosa è fare una valutazione dal proprio medico di medicina generale e noi dopo procediamo alla somministrazione sotto controllo evidentemente di tutti i tipi di vaccini suggeriti.